Trattate con cautela i vostri orologi. Se si rompono, infatti, rischiate di dover aspettare anche dieci mesi per vederli riparati. È l'effetto della nuova politica delle multinazionali svizzere degli orologi, che detengono l'80% del mercato mondiale del settore e che negli ultimi anni hanno via via accentrato su di sé anche il business della riparazione. Come? Non fornendo più pezzi di ricambio o fornendoli a prezzo di certificazioni durissime da ottenere. A farne le spese sono le piccole botteghe di orologiai, 5.000 in tutta Italia, quelle che da sempre sistemano i nostri orologi quando si rompono. Rischia di scomparire quindi il mestiere antico e raffinato dell'orologiaio con il suo indotto di botteghe di orafi, cassai, quadrantisti. E il tutto paradossalmente a fronte di una domanda di lavoro, quella delle riparazioni, che non ha mai conosciuto flessioni, neanche oggi in tempi di crisi. riusciamo a riparare circa 3.000 riparazioni l'anno e 800 che vengono invece rese al cliente in quanto non possiamo reperire i ricambi necessari. Il cliente che si vede rifiutata la riparazione cosa fa? Dove va? Deve rivolgersi alla casa madre con tempi lunghissimi invece delle nostre quattro settimane anche a partire da 40-42 settimane per la consegna e costi superiori dal doppio al triplo fino anche a 10 volte tanto. Questa situazione di aggravio di costi e dei tempi ha cominciato a verificarsi da circa 15-20 anni, quando i singoli marchi che erano indipendenti hanno cominciato ad essere acquistati da delle grosse holding multinazionali. Quindi non abbiamo più il singolo marchio che ci forniva i ricambi, ma abbiamo una multinazionale che detiene tanti marchi e che detta politica. Tutta la storia dell'orologeria è sempre stata una storia di libera concorrenza, di libera competizione tra grandi individualità e anche tra tanti appassionati e amatori degli orologi. Sarebbe un grosso peccato che il tutto si concludesse in divieti, proibizioni, concentrazioni e monopoli.